Buon pomeriggio dall'Aula della Camera, cronaca e politica si intrecciano al Question Time di oggi in una giornata ad alta attenzione per la bocciatura della manovra da parte dell'Europa che apre la strada alla procedura di infrazione. E proprio su questo qui alla Camera poco fa è stata convocata una capigruppo su richiesta delle opposizioni per chiedere al Governo di riferire in Aula. Tornando al Question Time, sulle prime pagine dei quotidiani il blitz contro le otto villette abusive del clan dei Casa Monica a Roma e proprio la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia è al centro del Question Time. Tema che è anche uno dei pilastri del decreto sicurezza in discussione qui alla Camera, decreto che è al centro di polemiche anche all'interno della maggioranza. Di strettissima attualità inoltre la questione migrazione dal decreto flussi al caso dei migranti della nave Nivin in Libia al Global Compact sulle migrazioni. E poi la piaga del femminicidio, il richiamo della Corte Europea per l'ICI non versata dalla Chiesa e anche il programma per il nuovo sistema di difesa aerea CAM Air. Questi sono gli altri temi sul tavolo del Question Time. A rispondere cinque ministri, quello dell'interno Salvini per i rapporti con il Parlamento Fraccaro, della Difesa 30, dell'economia Tria e degli esteri Moavero milanesi. Ecco, prima di entrare nel merito degli argomenti del Question Time di oggi vi ricordo brevemente alcuni dettagli con le regole del Question Time. Un botta e risposta tra deputati e governo. Questo però mentre le commissioni sono riunite, sono a lavoro ed ecco perché spesso in aula sono presenti soltanto i deputati interroganti che appunto pongono le loro interrogazioni. Sono, allora torniamo ai temi, sono 600 agenti e 20 mezzi all'opera dall'alba di ieri per lo sgombero e la confisca delle otto villette del clan De Casa Monica al Quadraro, periferia est di Roma. Oltre alla sindaca Raggi, ieri sul posto anche il ministro dell'interno Salvini e poi il premier Conti. Le istituzioni ci sono, ha detto la sindaca, parlando di una giornata storica per Roma e i suoi cittadini. E proprio la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, dicevamo prima, è oggetto di un'interrogazione del gruppo della Lega al ministro dell'interno Salvini, in cui si chiedono interventi per potenziare l'organico dell'Agenzia Nazionale. Tema che è anche un capitolo importante del decreto sicurezza, in discussione proprio qui alla Camera. Ecco, intanto vediamo che il ministro Salvini ha preso posto al tavolo del governo. E questo decreto sicurezza, molto caro proprio al ministro Salvini, è al centro però di tensioni anche all'interno della maggioranza. Tanto che proprio Salvini ha avvertito o passa entro il 3 dicembre oppure salta tutto. Ecco, sta facendo ingresso il vicepresidente di turno, Rampelli, che presiderà la seduta del Question Time. Quindi tra poco inizierà. Nel frattempo ancora qualche accenno sugli altri temi. L'immigrazione è sempre in primo piano e da tempo che la comunità di Sant'Engidio lancia l'allarme per la carenza delle badanti. Vediamo adesso inquadrato anche il ministro Tria accanto a Salvini ed è iniziata la seduta del Question Time. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3331. dei deputati Molinari e altri concernente iniziative per l'organizzazione e il potenziamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La deputata Simona Bordonali ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è co-firma d'aria. Grazie Presidente. Signor Ministro